WWDA Mini Prog è l'ultimo prodotto di X-Source dedicato alla programmazione delle memorie. Portatile, stabile e sicuro, ti consente di leggere, modificare e scrivere dati iproom senza risaldare. Ciao, sono Jessica di Magic Motorsport. Andiamo a scoprire insieme in questo video l'innovativo programmatore. E ricorda, se sei appassionato di automotive, lascia un mi piace, iscriviti al nostro canale e clicca la campanellina per rimanere informato. WWDA Mini Prog è un programmatore multifunzione che supporta memoria e processori utilizzati nell'unità elettronica dei veicoli. Attraverso l'applicazione X-Source, scaricabile su smartphone con sistema Android o iOS, potrai connettersi tramite Bluetooth e Wi-Fi per la programmazione del chip. WWDA Mini Prog, supportato in ben 18 lingue, è dotato di un display per visualizzare lo stato dei lavori in maniera istantanea. Il design innovativo del programmatore consente lavorazioni sicure e precise grazie alla funzione di rilevamento del pin e alla verifica in tempo reale dello stato delle connessioni. Si autoalimenta tramite una batteria incorporata nel programmatore. Adesso vedremo le caratteristiche del WWDA Mini Prog. Attraverso l'utilizzo di questo programmatore potrai memorizzare i dati senza la necessità di utilizzare un computer. Per la maggior parte dei circuiti integrati a 8 pin è possibile utilizzare un contatto a pressione per leggere e scrivere i dati che verranno automaticamente caricati sul tuo account cloud dedicato. Tre diverse interfacce di collegamento per chip 8 pin possono essere facilmente commutate per leggere e scrivere diversi chip e soddisfare quindi diverse esigenze. La sua struttura lo rende uno dei dispositivi più semplici ma allo stesso tempo efficaci nelle programmazioni dei chip. Le caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere comprendono la possibilità di programmare i chip senza dissaldarli direttamente dal circuito stampato e la maggiore visibilità dei collegamenti grazie al LED incorporato nel dispositivo. Ovviamente questo garantisce un risparmio di tempo e lavorazione in totale sicurezza. Per completare la configurazione di WWDA Mini Prog è possibile aggiungere un kit di datatori specifici per vari modelli di vetture. Per esempio, se devi effettuare un intervento di programmazione sulla centralina elettronica BMV-CAS sarà necessario utilizzare l'adattatore specifico per la lettura, la modifica e la scrittura delle IPROM. L'elenco completo degli adattatori è disponibile in descrizione. Bene, per concludere riassumiamo le caratteristiche di WWDA Mini Prog. Lettura e scrittura IPROM Lettura e scrittura del quadro strumenti Modifica dei dati Rilevamento dello stato del PIN Controllo app Backup su cloud dedicato Vuoi vedere come funziona? Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Se vuoi già acquistarlo, trovi il link in descrizione. Ti ricordiamo che Magic Motorsport è il distributore ufficiale dei prodotti X-Source. Ciao e alla prossima!